Musica 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 Bravo 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 Bravissimo Musica Mi piace che vinci le facili, con il 5-5-5. Se prezzai, voli c'è la attenzione. Grandi, grandi, grandi! Che c'è da 10? Buone il mio! Bravo! Nooo! Dai! Buonasera mister, com'è andata? Guarda, la partita si sta divulgando abbastanza bene, sono soddisfatto del gioco dei miei ragazzi. Fanno delle verticalizzazioni, aretano, vai in una bisarmonica a pieno, sono soddisfatto. Siamo sui risultati di 10 a 1. Per quest'oggi li grazio, per quest'oggi li grazio. Grazie. Prego, buonasera. Andiamo! Grazie! 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!